Per molte ragazze essere ben truccate è un po' come avere dei superpoteri, ma cosa succede quando glieli portano via? Sul serio? Alcune regole sono fatte per essere infrante. Siamo solo delle nullità! Che sta succedendo? Salve ragazze, qui il trucco è vietato! Capito? Ci saremmo dovute dare malate oggi! Un altro grandioso lunedì. Betty! Ma che collana! Oh, accidenti! È nuovo! Ah, abbiamo entrambe buon gusto! Che strano! Bella, guarda! È un travestimento! Vedi? È lucida labbra! Niente make-up, ricordi? Ma è davvero geniale! Vuoi farlo anche tu? Taglia un pezzo del tuo rossetto preferito. Adesso squaglialo per bene. Versalo dentro un contenitore. Ah, bello cremoso! E non dimenticare il tappo. Adesso prendi un grande medaglione come questo e mettici dietro della colla. Attacca il contenitore prima che si asciughi e voilà! Figo, vero? Facilissimo! Che sta succedendo laggiù? Ah, siamo in simbiosi! È andata bene! La prossima lezione è importante! Bella, ti stai mettendo in lucida labbra? Metterò fine a tutto questo. Perfetto! E il resto? Oh, ok! Deve essermi... Deve essermi caduto in tasca. E poi? Beh, allora anche questo. È tutto quello che ho, va bene? Oh, dimenticavo questo. Va bene? Sì, va bene. E tu, Betty? Hai nascosto qualche ombretto? Io? Ho soltanto questa roba qui. Come sei brava! Torniamo alla lezione. Oh, meno male che non ha guardato da vicino. Avrebbe visto che i pastelli sono in realtà dei trucchi? Ma che pastelli sono quelli? Per farli usa un taglierino per togliere l'involucro in questo modo. Togli il pastello e infilacci una matita per gli occhi. Usa della colla per sigillarlo. Veloce, prima che si asciughi. Manca soltanto una cosa. Non deve vedersi in legno. Infilala nella scatola e ci siamo! È un trucco geniale! Ragazzi! State prendendo appunti, vero? Oh, che brave! Ci è mancato pochissimo! Chi è il tuo nuovo amico? Ma di che parli? Quel cosa sta per esplodere! Ah? C'è qualcosa che non va? Oh no! È gigantesco! Mi servirà un sacco di fondotinta! Ma quello è make-up? Professoressa! Sta zitta! Mi serve! Fa silenzio, ti prego! Basta! Che cos'è questo baccano? Oh, cavolo! Non è così male, vero? A chi tocca? Io, io lo so! Nessuno? Io, io! Ok, vieni tu! Ma che cos'ha che non va? Aspetta! Ci sono! Vuoi nascondere il fondotinta? Ti serve il temperamatite, sì! Versaci il trucco! Poi prendi la colla stick, togli il tappo e usa un taglierino per toglierla! Una volta che il contenitore è vuoto, metti la spugnetta per il trucco così! E hai esattamente ciò di cui hai bisogno! Addio, brutto brufolo! Devo essere veloce! Ce l'ho fatta! Ecco, missione compiuta! Qui non c'è niente da vedere! Ma non hai più il brufolo? Te lo sarai immaginato! Ma giuro che... Dov'è finito il trucco? Mi servono dei nuovi occhiali! Che noia questa lezione! Questo cos'è? Le regole sono regole! Vi siete meritate un test! Ta-dam! Oh! Il gesso mi secca le mani! Guarda qui! Beh, la crema ce l'ho! Forse sono un'ipocrita? Ah, ecco! Ma come osa! Sta usando la mia lozione! Oh no! Non va bene! Vergogna! Ti sarai punita! Ah! Oh no! Sono solo umana! Non ne vale la pena, no? Ma potrei essere più furba! Perché non ci ho pensato prima! Hai una confezione di colla? Svuotala di tutto il contenuto così! Nessuno sta guardando, vero? E adesso l'ingrediente segreto! La crema mani assomiglia molto alla colla! E ho fatto! Un trucco stupefacente! Ma hai più mani secche! Ah! Molto meglio! Ehm... Bella! Ma ha della colla sulle mani? Ah, come morbida! Un'altra passata! Ma è impazzita! Ehm... Va tutto bene? Via libera! È l'ora dell'ombretto! Scusami! Conosci le regole! Da qui! Torna al lavoro! Psst! Psst! Sembra vernice, vero? Rimpiazza la vernice con l'ombretto! Sono della stessa dimensione! Nessuno se ne accorgerà! Con soltanto una passata di pennello puoi creare un look fantastico! Vedi? Incredibile! Fatto! Tieni! Prova anche tu! Non me lo faccio ripetere! Sono impegnate a bere il tè! Non ci vedono! È ora di vendicarsi! Cosa? Sto cadendo! Ha funzionato! È l'ora della trasformazione! Ma che è successo? E che cosa abbiamo addosso? Oh mio Dio! Ah! Questo vestito! Mi sta a pennello! E queste scarpe? Mi ci potrei abituare! E tu? Io? Sì! Non sto poi così male! Ok, i tempi stanno cambiando, gente! Wuhuuu! Adesso vediamo tutto molto più chiaramente! Beh, immagino che non conoscano le lenti a contatto! Già! Sei pronto a portare il tuo make-up in classe? Non puoi sbagliare con questi trucchi! Condividi il video con i tuoi amici! E questi li hai visti? Iscriviti al nostro canale per non perderti i nostri trucchi!